appena ho fatto una post bar il mio posto preferito del ritiro di sestre a bardonecchia che qua si fa scarico in basso guardate che location top per fare di pubblicità aralds però ragazzi top veramente ha dentro di tutto dai toast a tutte le cose più più interessanti che possiate trovare da mangiare e ovviamente cappuccino buono è ottimo penso anche per fare gli aperitivi anche se quelli ancora non sono dovuto provarli quindi farò sapere ma oggi siamo qui per un altro motivo ho messo il microfono così mi sentite meglio oggi girato gli scarico come dicevo prima quindi cosa siamo venuti a fare qui pausa bar e quando si fa la pausa bar quale può essere il principale problema che per fortuna non mi è mai successo ancora non così almeno perché una bici in realtà me l'hanno rubata se mi siete persi quel video lo trovate qua sopra però quella tutta un'altra storia ormai sono passati anni invece al bar è pieno di gente a cui hanno rubato la bici al bar piuttosto che una fiera o comunque in posti dove tu la bici la lasci lì pensi che sia al sicuro sott'occhio poi ti giri e non c'è più quindi in questi casi come si fa a evitare problemi di questo tipo come si fa a evitare che appunto te la portino via nel caso in cui qualcuno ci provi a minimizzare i danni e cercare in qualche modo di farsi che non succeda allora io personalmente ho due tecniche per fare per evitare problemi e stare almeno un pochino più tranquillo non dico che ti garantiscano entrambi i sistemi di non farti rubare la bici però ti fanno stare sicuramente più sereno nel caso in cui qualcuno provi a rubartela questo qualcuno si troverà in grosse difficoltà almeno per i primi 10 15 secondi di tentato furto quindi la prima tecnica è mettere il rapporto più duro che avete sulla bici quindi in questo caso un 48 10 che corrisponde più o meno al 52 11 per chi ha cimano quindi mettete comunque il rapporto adesso io ho l'11 però mettete il rapporto più duro che avete sulla vostra bici in modo che sembra banale ma se qualcuno prova a prenderla la bici voi provate a mettere questo rapporto e provate anche a prendere la bici cosa fai ovviamente tu ladro appena prendi la bici e dici adesso gliela foto ci salti sopra e pedali per andare via invece così sei costretto a camminare perché se tu ci sali sopra e provi a pedalare ci metti almeno 10 secondi a iniziare avere una pedalata che ti possa permettere di andare via a una certa velocità quindi ti ritrovi praticamente lentissimo non in grado assolutamente di pedalare quindi conviene quasi al ladro correre in questo caso e quindi capite bene che se si mette a correre voi lo potete riprendere senza problemi in un minisecondo mega rapporto sulla bici e già vi siete diciamo salvati quindi quando vi fermate al bar mi raccomando regola più importante mettete un rapporto più duro che avete e siete tranquilli adesso passiamo alla seconda tecnica che è probabilmente quella un pochino meno efficace ma neanche troppo perché mi sono tolto il casco oltre perché per abbronzarmi me lo sono tolto anche per un altro motivo perché il casco può essere utilizzato come vero e proprio antifurto in questo caso qui lo possiamo utilizzare diciamo come catena antifurto un po come le catene o i che mettete alla ruota della moto o della bici se la parcheggiate da qualche parte quindi oltre a mettere il rapportone sulla bici cosa andiamo a fare andiamo a sistemare anche il casco in questo modo quindi praticamente avete creato due antifurti su un'unica bici infatti voi adesso provate a prendere la bici e ad andare perché se il ladro non se ne accorge ovviamente parte col casco attaccato e la bici non va avanti si incastra tutto ma anche fosse che se ne accorge il ladro dovrebbe mettersi lì adesso io l'ho agganciato molto in modo veloce diciamo il casco però volendolo puoi agganciare andando a inglobare telaio raggi freno e via dicendo a quel punto il ladro dovrebbe mettersi lì sganciare il casco buttarlo per terra probabilmente fare rumore o comunque perdere del tempo prendere la bici partire si troverebbe nella situazione di praticamente essere piantato non andare avanti capire anche che cambio ha montato la bici perché a quel punto tu dici vabbè mette un rapporto agile sì ok questo è uno stram per esempio devi utilizzare entrambe le mani per mettere il rapporto agile per togliere il 48 se è shimano devi utilizzare solamente la leva di destra e devi comunque conoscere il cambio specialmente su un cambio elettronico quindi non facile se proprio volete essere sicurissimi piccola chicca finale mettete il rapportone mettete il casco e togliete la batteria a uno dei due rapporti in modo che lui prende la bici e non può neanche cambiare rapporto quel punto parte c'è costretto a fare almeno 20 30 secondi di diciamo rapina mano armata senza muoverla senza andare avanti molto sicuro sono piccole accortezze che però se siete in un bar dove la bici la lasciate come qua un po lontana e non potete averla sempre sott'occhio molto molto comodo e molto efficace a mio avviso quindi adesso io sgancio il mio antifurto e via posso prendere la bici e ripartire prima di ripartire però visto che siete arrivati fin qui vi chiedo di iscrivervi al canale spero che il video vi sia piaciuto e spero possa essere utile a molti di voi per evitare drammi evitare di farsi appunto rubare la bici quindi ricordatevi casco come antifurto rapporto massimo che avete sulla bici e soprattutto togliete le batterie se proprio volete essere tranquilli ve le mettete in tasca vi fate la vostra pausa bar siete sereni date sempre un occhio alla bici ovviamente ma vi assicuro che per un lato lo diventerà molto molto complicato portarvela via da sotto il naso bene ragazzi detto ciò ci vediamo in un prossimo video da Bardonecchia è tutto un saluto